Una vicenda degna di Sherlock Holmes, dice questo giornalista americano. Paolo Gabriele, il maggiordomo del Papa, si trova nel carcere vaticano da quasi una settimana. Avrebbe sottratto lettere personali dalla scrivania di Benedetto XVI per darle in pasto ai giornalisti fuori. Se l'abbia fatto per qualcuno non si sa. Quello che è certo è che colui che conosceva i segreti del Papa meglio di chiunque altro la fiducia l'ha persa davvero. E dopo il fermo del maggiordomo del Vaticano, staremo a vedere cosa succederà. Succede che Vittorio Feltri, allora direttore del giornale, accusa Dino Boffo, ex dell'avvenire, di molestie e omosessualità. Accuse subito respinte e ritrattate dallo stesso Feltri. Dopo quasi tre anni la vicenda riemerge più grande di prima. In mezzo alle lettere uscite dal Vaticano, quella di Dino Boffo, l'ex direttore scrive al Papa che le notizie false sul suo conto sarebbero opera di Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano. Nelle lettere si farebbe riferimento al caso Rubi, alla scomparsa di Emanuela Orlandi e alla bancarotta del San Raffaele di Milano. Non sono bene a conoscenza del fatto. What's your opinion about Vatican Secrets? Non ci siamo fatti un'idea, siamo solo qui in vacanza, dice questa donna. Nessuno vuole parlare, nessuno rilascia dichiarazioni. Per ora nessun terremoto tra i porporati in Vaticano, perché l'inchiesta si ferma ai laici.